Giovedì 28 novembre San Giacomo Francescano è il 332esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 33 al termine il sole sorge le 7 e 26 tramonta le 16 e 31 la luna sorge le 9 e 13 tramonta le 18 e 07 termina la rivolta di trieste contro il dominio dei veneziani che era iniziata l'anno precedente la città si consegna a paolo loredà governatore generale dell'istria domenico michiel viene nominato capitano della città e a tenerne a freno gli abitanti inizia la costruzione del castello di San Giusto le previsioni per domani cielo poco o parzialmente nuvoloso sulla pianura varie nebbie fino all'alba in dissolvimento al mattino e di nuova formazione di sera precipitazioni assenti temperature in calo anche sensibile